Buongiorno a tutti ragazzi, voi vedrete questo video giovedì mattina, quindi match day, io in realtà ho appena terminato di vedere il derby di Milano, di Champions League, non ho voglia tanto di star qui a parlare di altre squadre diverse dalla Juve, però due parole al volo vanno spese perché non mi aspettavo assolutamente un Milan così disattento nei primi minuti, in grado addirittura di rischiare il terzo gol. Derby che ha indirizzato abbastanza in maniera decisa, secondo me anche il ritorno e quindi la squadra, la prima squadra che vedremo in finale, poi il calcio è bello perché può regalare miracoli, vedremo se il Milan riuscirà a ribaltare un passivo davvero molto molto pesante. Però oggi non si deve parlare di Milan, di Inter, di Champions League, oggi si parla di Europa League, oggi si parla di Juventus contro Siviglia e voglio cercare di fare insieme a voi una sorta di riassunto di analisi di quello che è il Siviglia. Perché mi sono informato un pochettino e quindi voglio raccontarvi quello che sono riuscito a raccogliere a livello di informazioni, mi sono anche rivisto l'ultima partita del Siviglia contro l'Espagnol, ci siamo guardati anche live su Twitch un po' di clip di highlights del Siviglia, anche in relazione alla partita col Manchester United di Europa League e quindi bene o male abbiamo chiara qual è la situazione del Siviglia attualmente e voglio spiegarvi perché veramente quella del Siviglia di quest'anno, stagione 2022-2023, è una storia allucinante, veramente molto molto curiosa e bizzarra. Intanto vi dico che non hanno giocato questo weekend, l'ultima partita nella quale sono scese in campo è stato il 4 maggio appunto contro l'Espagnol, partita vinta per 3-2 nei minuti finali, non si è giocato questo weekend perché c'è stata una finale di Coppa del Rey vinta poi da Real Madrid con doppietta di Rodrigo, quindi è un po' che sono fermi, un po' che si riposano, è praticamente una settimana, domani sarà una settimana e quindi arriveranno belli freschi e riposati. È una rosa con dei nomi abbastanza conosciuti, quella del Siviglia anche se abbastanza all style, basti pensare a Jesus Navas, me li leggo, Alex Tejes, Fernando lo ricorderete, Ex Porto, Rakitic stesso, Lamela, Ocampos, il Papu Gomez, Suso che non è convocato, quindi sono tutti nomi abbastanza conosciuti, vecchie glorie anche del campionato italiano, più altri giocatori conosciuti come Bonu che è stato il portiere del Marocco al Mondiale, ricorderete le ottime prestazioni, Acugna, terzino dell'Argentina, campione del mondo, quindi veramente tantissimi tantissimi giocatori con un nome che però in questa stagione non sono andati particolarmente bene perché il Siviglia ha avuto ben tre allenatori all'interno di questa stagione. È partito con Lopeteghi, ha cambiato in corsa, è arrivato San Paoli e poi San Paoli è stato esonerato ed è arrivato Mendilibar il primo di aprile. Gioca con un 4-2-3-1, in questo momento il Siviglia è in serie positiva proprio grazie al cambio d'allenatore e grazie al cambio di atteggiamento. Il pressing è sicuramente un'arma nuova che è stata utilizzata dall'allenatore del Siviglia, in precedenza magari era qualcosa di diverso e Mendilibar non chiede la costruzione da dietro in maniera costante, quindi è una squadra quasi se vogliamo come la Juve che accetta anche di lanciare lungo senza dover per forza di cose iniziare la stagione da dietro, quindi se vogliamo una squadra meno moderna rispetto alle classiche squadre che ti attendi di trovare in Europa League in semifinale, invece ci sono Juventus, Siviglia e Roma che sono comunque squadre che non badano troppo al calcio moderno, hanno anche delle interpretazioni se vogliamo abbastanza arretrate, quindi aspettiamoci una squadra non particolarmente organizzata, ecco non aspettiamoci la squadra con il tecnico di un certo tipo che viene fuori, nuovo tecnico no, anzi è un allenatore che ha tantissima esperienza, mi pare oltre 400 panchini nella Liga Spagnola, quindi veramente stiamo parlando di un allenatore che ne ha viste di cotte e di crude. Crossano molto, infatti come per la Juventus sono una squadra che crossa molto, perché? Perché davanti hanno due attaccanti, Elen Zri e Rafa Mir, che sono alti quasi due metri, quindi l'idea del Siviglia è magari un recupero pallo, un pressing aggressivo per recuperare, magari anche alti, e poi arrivare tramite i cross, attraverso i cross a servire l'attaccante. Attenzione che loro giocano con Jesus Navas terzino destro e uno tra Alex Tejes e Acugna terzino sinistro, quindi comunque degli esterni offensivi, degli esterni che crossano, anche dalla tre quarti non hanno paura a buttare dentro il cross, a cercare appunto queste torri e quindi dovremo stare molto, molto attenti alla chiusura sugli esterni. Sarà una partita immagino poco giocata all'interno del cerchio di centrocampo, ma molto giocata sugli esterni. La Juventus potrebbe quindi avere una sorta di superiorità numerica a centrocampo, però attenzione che poi sugli esterni, se loro attaccano in quattro, ne difendiamo soltanto in due, potrebbe essere un problema. Questo ovviamente in caso di 3-5-2, non ho idea cosa voglia fare a Allegri, però sulla carta dovrebbe essere qualcosa di questo tipo. Attenzione che loro a centrocampo hanno un giocatore molto interessante che è Gay, è un nuovo arrivo che è arrivato a gennaio, un giocatore che ha dato veramente tanta fisicità e che anche nell'ultima partita con l'Espagnolo ha dimostrato di essere molto, molto in forma, ma notizia semi-positiva per la Juventus, questo giocatore non è stato inserito all'interno della lista UEFA, quindi questo giocatore che da quando è arrivato anche il nuovo allenatore è stato molto sfruttato, in realtà è stato voluto da San Paoli e poi anche Mendilibar non si è tirato indietro, anzi gli ha dato molto spazio, molto importanza all'interno della struttura del Sevilla, quindi mediano davanti alla difesa nel 4-3-1 al fianco di Rakitic, ecco non dovremmo preoccuparci di questo giocatore perché né all'andata né al ritorno il Sevilla potrà schierarlo, da quanto ho capito hanno fatto un po' di scelte bizzarre, quindi un mercato molto grosso a gennaio, dato che la squadra non stava andando bene bisognava intervenire e in lista UEFA sono stati inseriti soltanto i primi giocatori acquistati piuttosto che quelli più utili, quindi un po' di robe particolari e un po' di robe strane. Forte e determinante la Juventus non dovrà contare di marcare questo giocatore, non dovrà preoccuparsi di questo giocatore perché non sarà disponibile. Attenzione pure al portiere perché c'è stata una sorta di cambio di portiere da inizio anno, infatti l'allenatore aveva già utilizzato in un'esperienza precedente Dimitrovic, che è diventato il nuovo portiere titolare, quantomeno nella Liga, perché nelle due partite di Europa League con Mendilibar in panchina, in porta aveva comunque giocato Bonou, che era il giocatore, il portiere titolare del Sevilla, in tutte le altre partite e anche in campionato, che ricorderete, ripeto, ha fatto veramente delle parate incredibili al Mondiale col Marocco, vedremo se sarà confermata questa sorta di differenza di portiere tra campionato e Coppa oppure no. E poi c'è Goodell, che è un giocatore molto importante per il Sevilla, le gioca tutte in Liga, gioca addirittura come difensore centrale, mentre in Europa League l'abbiamo visto a centrocampo proprio perché l'assenza di un giocatore importante come Gei va a modificare anche un po' la struttura del Sevilla, quindi Goodell è un giocatore che a seconda di dove serve gioca o a centrocampo oppure difensore centrale, quindi magari, dato che appunto ci sarà bisogno di vedere un giocatore in più a centrocampo, lo vedremo in quella posizione lì. La difesa del Sevilla non è ermetica, anzi è una squadra che balla abbastanza anche nel mezzo dei due centrali, questo perché? Perché spesso e volentieri abbiamo visto delle rotazioni, vi faccio un esempio, all'andata con il Manchester United hanno giocato Marcao e Quassi come difensori centrali, al ritorno Marcao e Badè, l'ultima Rekic e Goodell, tra l'altro Rekic ha fatto pure autogol e Marcao è stato terrificante nella partita d'andata contro il Manchester United, Marcao che non sarà disponibile, è infortunato, così come infortunato Suso non sarà disponibile neppure lui. Questo però cosa significa? Che il Sevilla non ha ancora trovato la quadra, per quanto riguarda i difensori centrali, anche dopo il cambio in panchina, e lì la Juve può veramente far male, la Juve può spingere, può cercare di mettere in difficoltà gli spagnoli in quella posizione. Dal cambio in panchina sono passate nove partite in totali, sette di Liga e due d'Europa League, sei vittorie, due pareggi, una sconfitta per 2-0 col Girona, anche se abbastanza immeritata, visto che il Sevilla aveva veramente creato tantissimo, addirittura 23 tiri totali e ha perso 2-0, quindi la sconfitta che ha avuto è stata una sconfitta, se vogliamo, immeritata. In queste nove partite 17 gol fatti e nove gol subiti, cinque gol di queste 17 sono arrivati dal centravanti El Nesri, che ha fatto anche una doppietta contro il Manchester United nella partita di ritorno, vinta per 3-0, quattro gol segnati da Ocampos e due gol segnati da Bade. Ocampos che nell'ultima partita è entrato al posto di Suso, che aveva subito questo infortunio, ed si era posizionato nel tridente alle spalle della punta. Quindi queste sono un po' di informazioni che vi butto lì, sono un po' di informazioni che dovrebbero tornarci utile. Oteglie su Acugna come terzino sinistro, Jesus Navas immagino capitano come terzino destro con il sedici di Antonio Puerta. Davanti immagino El Nesri, dato che è il giocatore che comunque è più pericoloso. In porta mi aspetto Bonu, dato che in Coppa dovrebbe essere una roba di questo tipo. In difesa non mi aspetto Goodell, ma vedremo cosa succederà tra i difensori, dato che c'è sempre un po' di ricambio. Mi aspetto appunto Rakitic, potrebbe addirittura essere spostato dietro la punta con l'ingresso di Fernando, che è comunque un giocatore abbastanza anziano, lo conosciamo veramente da tanti anni, e visto che non c'è appunto il buon Suso, potrebbe giocare Ocampos al suo posto. A sinistra, che ha fatto vala anche nell'ultima partita, potrebbe trovarsi Brian Gil, che appunto viene da un momento positivo, e lì sulla sinistra può diventare un pericolo. Papu Gomez non sembra essere per il momento proprio il giocatore più utilizzato. dall'allenatore, attenzione, occhio anche alla Mela, che è una vecchia conoscenza del campionato italiano, che è rientrato da qualche periodo in cui non era disponibile, e secondo me potremmo vederlo in campo, anche se non dal primo minuto a partita in corso. Cosa significa? Il Siviglia ha rischiato. Fino a marzo si parlava di zona retrocessione per il Siviglia, per darvi un'idea, e questa è la cosa veramente assurda. Tre allenatori, quindi sicuramente la stagione non è stata positiva. In questo momento al Siviglia sono contenti perché sono arrivati dei risultati, sono arrivati dei risultati anche contro squadre magari non di altissimo livello, infatti si è andata a vedere le partite che hanno giocato, non hanno incontrato i grandi avversari, tranne lo United, dove all'andata si è pareggiato per 2-2 con due autogol clamorosi del Manchester United, dopo che era andato in vantaggio per 2-0 e con dei buchi clamorosi della difesa del Siviglia, proprio in occasione dei due gol subiti, e nella partita di ritorno i tre gol segnati dal Siviglia nascono da veramente erroracci clamorosi del Manchester United, quindi questo risultato molto rotondo e molto clamoroso passa anche da errori grossolani degli avversari, quindi noi dovremo concentrarci, rimanere lì belli, perché sappiamo che quando siamo belli concentrati poi è difficile anche per gli avversari farci male e sappiamo che loro ballano, è vero che comunque è una squadra che in questo momento sta raccogliendo dei risultati, ma è anche vero che in precedenza era una squadra che aveva trovato non poche difficoltà e comunque in queste 9 partite hanno subito 9 gol, quindi sono sicuramente una squadra tutt'altro che imbattibile da quel punto di vista, una squadra a cui si può sicuramente segnare. Loro in aprile sono andati molto bene, noi in aprile siamo andati molto male, però questo non conta niente, conta soltanto che adesso si arriva a giocare una semifinale di Europa League dove loro comunque sono abbastanza tranquilli perché negli anni hanno vinto 6 coppe di questo tipo, quindi conoscono benissimo tutta la situazione, sanno come si vince questa competizione, però la Juventus non deve, assolutamente non può, la Juventus aver paura del Siviglia, di questo Siviglia rispettarlo sì, certo, indubbiamente anche per la storia, quello che vi dicevo nei confronti di Allegri che rispetta comunque le squadre con una forte tradizione europea, ma loro non dimentichiamocelo, sono una squadra che è andata in seria difficoltà, una squadra non irresistibile, una squadra che ha dei grossi punti deboli e se noi facciamo la nostra partita, soprattutto in casa nostra, sono sicuro al 100% riusciremo a mettere in difficoltà. Fatemi sapere un po' la vostra, qui sotto nei commenti, se avete seguito con interesse anche la Liga Spagnola e volete aggiungere qualcosa, benissimo, io ho raccolto queste informazioni, spero che siano quanto più precise possibili e noi ci vediamo ovviamente questa sera per il commento poi a caldo direttamente dallo stadio, visto che sarò all'Allianz, sperando di poter mantenere un bel sorriso, dato che, come vi dicevo, si può tranquillamente pensare di portare a casa il risultato pieno.